E' soltanto una ristrutturazione, ti porterebbe via così poco tempo. Sono sicuro che ti troverai bene a lavorare con Massimo. Io sarei molto felice se tu seguissi questo lavoro. Allora adesso ci sarà un tocco femminile, giusto architetto? Assolutamente. Perché non hai continuato a lavorare lì? Tu lo ami questo lavoro? Le cose sono andate così? In tutti questi anni non hai fatto altro che scappare, sì? Tu hai mai fatto delle folie per amore? Senza pensare alle conseguenze? Vuoi che mi è arrivata? Ma io non ho mai scritto una lettera d'amore. Ah. 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 Sì